Gentili amici di Radio Alfa, ben ritrovati da Naveglia Salerno. Ci ritroviamo insieme per l'appuntamento con noi e la Regione. Saluto subito il consigliere regionale Donato Pica. Buongiorno. Buongiorno a voi. E allora ovviamente lei nella sua attività istituzionale e politica prende sempre le difese del territorio, in questo caso salernitano, più nello specifico parliamo del Vallo di Diano ed in particolare di un progetto della comunità montana Vallo di Diano realizzato o meglio promosso di concerto con i comuni del territorio ma che in qualche modo è fermo al palo a causa della lontananza da parte della Regione. Ma qual è la situazione? La situazione è che ormai ci avviamo a delle scadenti inderogabili anche per la Regione Campania, infatti entro il 22 luglio prossimo la Regione dovrà licenziare il cosiddetto documento strategico per inviare alla comunità europea con l'individuazione di alcune aree pilota su cui appunto sperimentare la procedura nuova. In qualche modo che si riferisce ai fondi 2014-2020 cioè la valutazione di una strategia complessiva di area omogenea che sappia promuovere congiuntamente in maniera coordinata iniziative e progetti che siano volti allo sviluppo e all'occupazione. Nel caso di specie già da alcuni anni nel Vallo di Diano con la comunità montana e con i sindaci abbiamo sperimentato questo modello utilizzando professionalità che di volta in volta hanno accompagnato la nostra azione come il Format e la Lega delle Autonomie Locali. Tra l'altro il Vallo di Diano corrisponde integralmente al sistema territoriale di sviluppo previsto dalla legge regionale 13 del primimento. Noi sosteniamo che i sistemi territoriali di sviluppo debbano essere la base della concessione dei finanziamenti non più a pioggia singolarmente ma basati su idee maturate dal basso con la concertazione e con la partecipazione di tutti i protagonisti e soggetti dei processi di sviluppo locale. Per cercare di investire la rotta e di dare alle aree interne una possibilità quella di uscire dall'isolamento e di combattere lo spopolamento. Diciamo che le aree interne si danno da fare, gli enti locali si danno da fare per realizzare progetti importanti, proprio finalizzati a quello che lei diceva poc'anzi ma in questo c'è bisogno del sostegno dell'istituzione regione. Sicuramente il governo regionale è abbastanza debole e incerto su questa materia, vediamo che cosa sta succedendo per esempio sui punti 2007-2013, siamo ben oltre la data prevista e ancora si valutano se, come e quando possano essere definiti decreti per la realizzazione di opere pubbliche nei singoli comuni. Ci siamo in affanno, stiamo correndo presso alle venticondazioni ed è sbagliato a mio giudizio intervenire alla fine, cioè si programma all'inizio, ora siamo nel 2014, ogni territorio, ogni aree, ogni sistema territoriale di sviluppo della regione e campagna deve sapere in anticipo qual è la filosofia di intervento. Su questo attrezzare e organizzare le mosse conseguenti. Speriamo che in questo ultimo scorcio di tempo disponibile a livello regionale le aree di Salerno, di Avellino e di Benevenno, perché parliamo di aree interne meritevoli di attenzione, siano inserite nelle linee di sviluppo. Lei naturalmente dal canto suo, come sempre ha fatto, fra di tutto affinché non venga disperso questo lavoro fatto dagli enti locali, ma insomma che non vengano assolutamente disperse risorse finanziarie. Assolutamente, anche perché noi abbiamo avuto la visita dell'ex ministro Barca, ci sono stati due incontri tematici, lui presiede la commissione ministeriale per i punti della coesione e si è capito chiaramente quale sarà l'orientamento condiviso dal governo nazionale. Faccio un esempio rapidissimo, se noi riteniamo, io sono d'accordo, che tutto il territorio del Parco Nazionale, Cilento, Vallolidiano e Dal Bulli, deve collegare il suo futuro alla valorizzazione delle risorse locali, l'ambiente, i beni culturali, storici, artistici, la enogastronomia, i prodotti tipi, lo sviluppo sostenibile. Poi anche le infrastrutture e i servizi devono essere conseguenziali, una buona sanità, una buona comunicazione, i servizi devono essere organizzati, deve funzionare, altro esempio, la raccolta differenziata. Tutto questo contesto per rendere il sud della provincia, abbiamo parlato del valo di Sarma, il meccanismo applicabile anche ad altre aree interne, deve essere potenzialmente competitivo per dare un'offerta adeguata. Certo, perfetto onorevole, noi ci fermiamo qui ma ci diamo appuntamento tra qualche giorno per parlare ancora della sua attività. Intanto buona giornata e grazie. Grazie a voi, buon lavoro.